Io penso che sbagli il Presidente del Consiglio quando dice che l'impianto della legge non può essere cambiato perché questa legge mantiene l'Italia nelle condizioni in cui è, cioè di un paese in deflazione e di un paese in cui continua a aumentare la disoccupazione e se continua ad aumentare la disoccupazione gli stessi conti che loro prevedono dal punto di vista del mantenimento delle percentuali di deficit non reggerebbero quindi è proprio interesse per chi vuole guardare all'Europa e ai vincoli che ci sono fare delle politiche di crescita e di sostegno all'occupazione. Grazie.